Come cambia la ricerca dei talenti nell'era del digitale? Come lo smart working va ad influire sui meccanismi organizzativi ma anche sullo stile di leadership? Ne abbiamo parlato in una lunga conversazione con Nicola Rossi, profondo conoscitore del mercato del lavoro italiano, originario di Parma e country manager di Monster Italia. Buona visione! Oggi abbiamo il piacere di conversare con Nicola Rossi, Nicola Rossi è amministratore, anzi l'Apsus di partenza, è country manager di Monster e fondatore in qualche modo della parte di start-up italiana parecchi anni fa, poi Nicola ci dirai di questo progetto che ormai è diventato una pietra angolare della ricerca e selezione del personale nel nostro paese. Benvenuto intanto Nicola. Grazie dell'opportunità, buongiorno a tutti. Nicola oggi parliamo di digitale e parliamo di talenti, di persone. Intanto partirei appunto, abbiamo citato Monster, come il digitale ha cambiato i processi di ricerca e selezione del personale e già forse in questa mia definizione di business già sono, come dire, un po' indietro. Il digitale ha cambiato tantissimo i processi di selezione, employer branding e, diciamo, attraction dei candidati. Bisogna tenere conto anche della modifica che hanno avuto i candidati stessi. Quindi bisogna anche considerare il target che è completamente differente rispetto a quello che poteva essere anche solo cinque anni fa. L'emergenza sanitaria non ha fatto altro che accelerare questa dinamica in cui davvero il digitale e l'intelligenza artificiale unita al target stanno davvero creando una nuova fase per quanto riguarda il recruiting e la selezione dei candidati. Noi lo stiamo vivendo anche sulle nostre esperienze. Noi abbiamo avuto parecchie esperienze con diverse aziende, sia in ambito retail che in ambito largo consumo. Quello che vediamo sono sostanzialmente quattro dinamiche differenti. Una è che la tecnologia e i target stesso hanno portato a una sempre minore differenziazione fra candidato attivo e passivo. Quindi sono sempre più convinto che esisterà sempre meno questo tipo di differenziazione perché il candidato sarà sempre connesso e sarà sempre direttamente in contatto con le aziende. Questo è un fattore molto importante perché come sappiamo prima la ricerca era molto focalizzata nell'andare a cercare il candidato passivo che era un po' quello a maggiore valore aggiunto. In questo momento tutti saranno passivi, tutti saranno attivi proprio per la modalità di utilizzo della tecnologia, il mobile in particolare. Il secondo aspetto è una spinta molto forte e sarà sempre maggiore nell'utilizzo dei big data. E quindi di tutto il talent analytics sia in fase previsionale che in fase anche di definizione di strategie. Quindi anche in ambito HR tutta l'analisi dei dati diventerà sempre più importante sia per quanto riguarda l'attraction sia per quanto riguarda gestire le dinamiche interne. Quindi tutto un aspetto di retention e employability. Il terzo aspetto è la comunicazione che diventerà sempre più fondamentale proprio perché le macchine, il digitale rischia di non apportare quella che è una comunicazione, uno storytelling in termini di racconto, in termini di emozioni. Quindi va unita questa parte narrativa alle piattaforme social piuttosto che a strumenti di tecnologia. Basta pensare all'importanza che stanno avendo i video anche in ambito HR per attrarre e per comunicare. Il quarto aspetto è quello che possiamo definire l'integrazione fra il digitale e il reale. Quello che stiamo vedendo è che i processi di recruiting e di selezione che riescono ad integrare una forte componente digitale digitale con anche una modalità di relazioni personali e umani con le persone possono creare una candidate experience che ha veramente un valore aggiunto superiore da andare a proporre al mercato. Questo in un'ottica anche di processo bidirezionale interno ed esterno ed è un altro fatto da tenere in considerazione. Esisterà sempre meno quello che è il mondo esterno all'azienda, quindi i candidati, e quello che è il mondo interno all'azienda, i dipendenti, ma ci sarà sempre più un osmosi di comunicazione fra le due realtà. Il fenomeno dei testimoni a sé è abbastanza evidente. Quindi abbiamo, non davanti, siamo in mezzo delle sfide, Nicola, per tutte e due le parti, no? Domanda offerta molto importanti. Rispetto sempre dal tuo ampio e particolare punto di vista, i candidati sono, i potenziali candidati, attivi o passivi, sono pronti a queste sfide dalla tua platea? Secondo me sono più pronti i candidati, soprattutto quelli che noi definiamo i millennial, non solo adesso la generazione d'edito. Teniamo conto che stime e previsioni prima del Covid, però secondo me sono assolutamente riapplicabili anche dopo. Mi sembra di ricordare che oltre il 50% della attuale o futura forza lavoro in Italia sarà composta da quelli che vengono chiamati i millennial. Quindi loro sono sicuramente più pronti, proprio perché sono nati con questa tecnologia, sono nati con il mobile, sono nati con questa capacità di entrare e di uscire dal digitale, sono più pronti loro rispetto a chi lavora in azienda. A meno che non troviamo aziende particolarmente innovative, in cui ci sono anche lì millennials che stanno portando avanti un certo tipo di percorso. Il rischio è che quello che vede che la organizzazione, che anche qui poi è tutto un altro tema da eventualmente sviluppare perché abbiamo bisogno di un nuovo modello organizzativo in azienda, il rischio è che l'organizzazione continui a ragionare con logiche che non si adattano più o si adattano poco a quello che è il mindset dei candidati. Certo. Passiamo, come dire, al digitale non più come strumento, diciamo, per avvicinare domanda offerta, Nicola, ma al digitale proprio come pezzo delle strategie delle aziende. In questi ultimi due mesi in particolare, come dire, abbiamo assistito a business che si sono bene o male con maggiore o minore successo trasferiti integralmente sul digitale e quindi processi che si digitalizzano sempre di più, lo diciamo da tantissimi anni, però adesso insomma sembra che la strada sia stata forzatamente presa e sia difficile anche un po' tornare indietro. che talenti servono e ci sono questi talenti per gestire in azienda questa digitalizzazione dei processi? Allora, i talenti in azienda ci sono e qui faccio, apro una parentesi sul discorso di nuovi modelli organizzativi. Sicuramente dobbiamo considerare che indietro non si torna. ad esempio, cioè il digitale e lo smart working ci hanno insegnato che abbiamo bisogno sicuramente di una nuova leadership e di nuovi modelli organizzativi. Dobbiamo tenere in considerazione che comunque anche aziende che non si volevano sentire preparate nel gestire un processo di smart working dovranno per forza andare in quella direzione perché abbiamo capito tutti che i benefici sono sia lato aziende che lato candidati. Quindi serve necessariamente ripensare l'organizzazione che metta in piedi dei processi basati su l'autoresponsabilizzazione dei dipendenti, basata su processi molto focalizzati sui risultati e al tempo stesso però che ci siano anche processi di non voglio dire revisione ma di pianificazione continua di quello che è lo status delle diverse attività. Quindi secondo me le aziende dovranno capire quali sono le attività che possono lasciare all'interno dell'azienda. Chiaramente in questa fase abbiamo lavorato tutti diciamo in remoto, non abbiamo fatto smart working perché smart working è lavorare per obiettivi in maniera agile e quant'altro però avere anche al contempo una presenza in azienda. Secondo me la presenza in azienda è quello che vedo che si sta realizzando in alcune aziende è quando sarò in azienda avrò momenti di pianificazione, momenti strategici, momenti di riunione, di brainstorming eccetera in cui andrò a definire piani, dopo ognuna casa farà la propria diciamo esecuzione e l'execution di quello che è stato stabilito. Dopodiché ci potremmo rivedere per fare percorsi di condivisione, di diciamo verifica, assessment di quelli che è lo stato dei processi. Questo sarà sicuramente un modello organizzativo su cui le varie organizzazioni dovranno lavorare. Chiaro che dipende un po' dalla, diciamo, industrie, un'azienda di servizi più facilitate piuttosto che un'azienda manufatturiera o del retail, però il modello concettuale di base dovrà essere quello. È chiaro che per far questo servono anche competenze di leadership differenti rispetto a quelle cui ci siamo abituati finora, in cui c'era una leadership molto basata su il controllo. Io devo vedere le mie persone, adesso invece ci sarà più sulla responsabilizzazione. I dipartimenti Chiar, secondo me, dovranno lavorare molto sulla costruzione di questo tipo di leadership. Tutto quello che si sente dire sui talenti, i talenti ribelli, Mavericks, eccetera, sono queste le persone che devono essere, che le aziende devono trovare il modo di identificare e di valorizzare. Persone che abbiano una capacità di pensiero laterale, di pensare out of the box in maniera tale da essere allineati a una dinamicità di modelli di business che sarà sempre più necessaria, perché dobbiamo pensare anche che i modelli di business come li abbiamo pensati al passato, in cui io trovavo un modello di business per 10, 15, 20 anni, potevo continuare a trarre profitto da questo modello di business, adesso con la digitalizzazione, con tutto quello che ci siamo detti, dobbiamo pensare anche una dinamicità dei modelli di business molto forti, quindi dobbiamo davvero aggiungere alle competenze hard, perché da quelle non possiamo non partire. Cioè è chiaro che le competenze le devi avere, mettere dentro delle competenze soft, l'intelligenza emotiva piuttosto che empatia, piuttosto che in grado di poter gestire questa dinamicità e questa flessibilità che finora l'essere quotidianamente in azienda non permetteva che fosse valorizzata, perché non veniva nemmeno richiesta in maniera così evidente come lo sarà nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Nicola, sul digitale un po', come dire, questa è una tradizione abbastanza italiana, si è fino a, mi viene da dire, poi mi direi la tua, fino a qualche mese fa c'è stata una posizione del tipo italiano-matematica a scuola, no? C'erano quelli che erano bravi in italiano e quindi in matematica automaticamente dovevano andare male e un po' viceversa. E questo era vero, secondo me, o quantomeno si raccontava così, anche rispetto alle capacità manageriali, gestionali e l'informatica, che erano due mondi che non potevano stare assieme, anzi, come dire, diventava quasi un vezzo, direi io, di digitale o di informatica, non ne capisco granché, anche su livelli alti dal punto di vista manageriale. E' ancora così? Siamo ancora così indietro o qualche passaggio l'abbiamo fatto? Io penso, come dicevamo prima, che una integrazione di quella che è una componente umanistica sulle competenze tecnologiche debba essere assolutamente fatta. nel senso che leggevo un articolo tempo fa in cui si diceva di andare a inserire una lettera nella famosa definizione STEM, quindi lauree scientifiche, tecnologiche e matematiche, andare a inserire una lettera che era la, diciamo, A, per andare a capire, nel senso di arts, che però voleva sintetizzare tutta una parte umanistica. Io sono d'accordo con alcuni professionisti consulenti che dicano che ci sia e si debba ritornare ad un nuovo umanesimo, cioè nel senso ad un'integrazione di quelle che sono le competenze tecnologiche anche con le componenti umanistiche. Un po' sul modello di, diciamo, Leonardo che univa queste due competenze. Perché penso che sia quella la strada su cui dobbiamo assolutamente andare. E i candidati si trovano capaci di fare questo? I candidati ci sono. Ritorno al passaggio iniziale. Le aziende devono mettersi in condizione di volerli trovare, perché i candidati ci sono. Finora non sono stati... Io vedo e vedevo tantissime ricerche in cui si partiva, vogliamo il candidato innovativo, vogliamo il candidato ribelle, vogliamo il candidato che abbia una visione laterale, eccetera, eccetera. Poi quando andavi a condividere questo con la linea, veniva fuori, no, forse è meglio rimanere su come abbiamo sempre fatto, cioè su quel tipo di... abbiamo bisogno di quell'ingegnere e basta, che sappia fare questo. Ecco, secondo me in questo momento dobbiamo tutti insieme cercare di avere un pochino più di coraggio e andare davvero a cercare queste persone, perché sono quelle che poi ti possono dare un vantaggio competitivo e ad aiutarti a trovare sempre una evoluzione del tuo modello di business. I candidati ci sono, bisogna fare in modo che le aziende abbiano il coraggio di andarli a cercare e poi portare in azienda, ma secondo me è un percorso che è già stato avviato e dal quale non possiamo evitare di percorrere. Chi non lo percorrerà, secondo me, rischia di perdere competitività rispetto al mercato. Bene, grazie mille Nicola. È bello chiudere, come dire, una conversazione che parla di digitale, di innovazione, di persone con la parola coraggio, che mi sembrerà, come dire, anche una sorta di sintesi. Grazie mille. Grazie a te e grazie a tutti voi.